Dicembre 2020 cede l'argine del fiume Panaro, l'alluvione colpisce la provincia di Modena, in particolare il comune di Nonantola. Dicembre 2020 cede l'argine del fiume Panaro, l'alluvione colpisce la provincia di Modena, in particolare il comune di Nonantola. Nella zona dell'argine nei giorni successivi si ritrovano numerosi mattoni, riporta la relazione sulle cause all'origine della rotta arginale. Ma che ci fanno dei mattoni? Secondo la relazione il motivo sarebbe dovuto a una possibile struttura inserita nell'argine, o a un riempimento e riparazione, ricorrendo a materiale di demolizione di un fabbricato nella zona. Ma una testimonianza di chi abita qui vicino offre un'altra ricostruzione. La presenza dei mattoni sarebbe dovuta a dei lavori fatti nel 1966. In quell'anno infatti si rompe l'argine, che sarebbe poi stato ricostruito con una specie di muro interrato di rinforzo, molto simile a questo. Una volta finiti i lavori, i mattoni avanzati sarebbero poi stati sotterrati lungo l'argine. Da qui il motivo del ritrovamento nella zona interessata dalla rottura del 2020, secondo la testimonianza.